Se soffri di acne, brufoli e imperfezioni sulla schiena, continua a guardare questo video per scoprire i migliori rimedi naturali. Ciao, io sono Dariana e da 2015 mi occupo di cosmesi naturale e biologica. Se questi argomenti ti interessano, iscriviti al canale per non perdere i prossimi video. Oltre che sul viso, brufoli, acne e imperfezioni possono comparire anche sulla schiena. Sono solitamente dovuti a cause ormonali, infatti si manifestano solitamente durante l'età adolescenziale o in caso di cambi ormonali, come ad esempio la gravidanza o la menopausa, ma possono presentarsi ad esempio anche per una predisposizione genetica, per una pelle che tende a produrre più sebo del necessario o anche a causa dell'utilizzo di prodotti troppo irritanti per il proprio tipo di pelle, per un'esposizione scorretta al sole e anche per l'utilizzo di abiti in tessuti non traspiranti. I brufoli sulla schiena sono tipicamente molto simili a quelli dell'acne, quindi compaiono come delle lesioni gonfie arrossate che possono generare anche dolore, prurito e infiammazione. Tentare di migliorare la situazione utilizzando dei semplici rimedi naturali e dei semplici accorgimenti nella nostra vita quotidiana. Innanzitutto, così come accade per quelli sul viso, è fondamentale non schiacciare i brufoli, poiché andremo ad irritare ulteriormente la pelle, a favorire la contaminazione batterica e quindi a favorire la comparsa di altre imperfezioni. Anche in caso di brufoli sulla schiena andiamo ad utilizzare dei detergenti delicati. Possiamo utilizzare dei detergenti specifici per il corpo per la pelle grassa, ma è importante che siano comunque dei detergenti equilibrati. Non abbiamo bisogno di sgrassare la pelle, ma abbiamo bisogno di detergerla in maniera delicata e rispettosa, in modo da evitare la comparsa di ulteriori imperfezioni. Importante è anche l'abbigliamento che andremo ad utilizzare. È fondamentale ridurre al minimo le irritazioni della pelle, quindi evitiamo quanto più possibile capi che sfregano sulla pelle e capi in tessuti sintetici, poiché abbiamo bisogno che la pelle sia libera di traspirare. Se la pelle è integra, quindi se non ci sono infiammazioni, se non ci sono lesioni, puoi utilizzare uno scrub delicato una o due volte al mese, così da rimuovere le cellule morte e ridurre il rischio di imperfezioni. Ti consiglio di scegliere come creme corpo delle creme molto leggere, magari specifiche per questo tipo di inestetismo, così da nutrire la pelle ma senza ostruire i pori. Anche sulla schiena puoi utilizzare un booster di neacinamide più zinco. È un booster che solitamente utilizziamo nella skincare per il viso, ma proprio come per il viso ci va ad aiutare a contrastare le imperfezioni e a ridurre gli arrossamenti, è ottimo sulla schiena proprio per gli stessi motivi. La combo di questi ingredienti va infatti a regolare la produzione di sebo, allenare gli arrossamenti e le irritazioni dei brufoli già presenti sulla pelle e prende la grana della pelle più compatta, riducendo ad esempio i pori dilatati, i rossori dovuti ai brufoli e anche le cicatrici post brufolo. Questo tipo di booster ha anche un'ottima azione depigmentante, quindi va a contrastare le macchie rosse e le macchie scure post brufolo, va a rinforzare e proteggere la barriera cutanea in modo tale da prevenire la comparsa di nuove imperfezioni. Ottimi per ridurre le imperfezioni sulla schiena sono anche gli oli essenziali di timo, rosmarino e tea tree. Come tutti gli oli essenziali non vanno ovviamente utilizzati in purezza, ma puoi aggiungerne qualche goccia nel tuo olio corpo o nella tua crema corpo proprio prima dell'utilizzo, in modo da sfruttarne appieno di capacità antibatteriche, antinfiammatorie e cicatrizzanti.